Al primo posto in classifica su Netflix negli ultimi giorni c'è Jupiter's Legacy e una ragazza in una delle prime scene dice questa cosa The last thing you need is to be trending on social media after I whoop your ass Tutta la frase vuol dire l'ultima cosa che ti serve è diventare virale sui social media dopo che ti whoop your ass To whoop vuol dire battere, prendere a pugni, fare a botte e ass lo sappiamo tutti Culo, 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 culo To whoop your ass ha un paio di significati Uno è proprio per esempio una madre che dice ad un figlio You better run or I'm gonna whoop your ass Ti conviene correre oppure vengo a sculacciarti L'altro significato è figurato e sta a significare ti prendo a botte Ti prendo a pugni Ti faccio il culo praticamente Si può anche usare in questa maniera They'll give us an ass whooping if they find us down here Quindi ci daranno una sculacciata oppure ci prenderanno a botte, dipende, se ci trovano qua giù E' un'altra sculacciata oppure ci prenderanno a botte, dipende, se ci trovano qua giù